Diciamoci la verità, da quando è nato questo canale di software per l'ottimizzazione del computer ne abbiamo già visti insieme un bel po'. E allora perché sono qui a presentartene un altro? Beh, per capirlo dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Il software di cui ti voglio parlare è un software che in realtà ho sempre conosciuto di nome ma che per mia superficialità non ho mai voluto provare. Tuttavia recentemente è venuto fuori qualcosa di molto interessante in un commento che mi ha spinto non solo a testarlo ma anche a decidere di presentartelo. Vuoi sapere di che cosa si tratta? E io te lo dico immediatamente e quindi se ti senti pronto iniziamo. Senza fare grossi misteri ti dico subito che il software di cui voglio parlarti oggi si chiama Game Booster. Probabilmente lo avrai già sentito nominare, forse lo avrai provato o forse no. Io francamente l'ho sempre sentito nominare ma non l'ho mai preso in considerazione rispetto ad altri software più blasonati. Tuttavia recentemente è successo un qualcosa che ha attirato la mia attenzione e stimolato la mia curiosità. Ovvero una persona che risponde al nome di Zoltar ha lasciato questo commento sotto un mio video. Mi ha incuriosito la cosa per due motivi. Il primo è che conosco Zoltar personalmente da tanti anni, mi permetto di definirmi un suo amico e la seconda soprattutto è che lo considero oltre ad un bravissimo gamer altro che semi professionista anche se quando gioca utilizza un nickname diverso che evidentemente non vuole rivelare ma soprattutto è un grande esperto di computer. Sentirgli dire una cosa del genere ha davvero stuzzicato la mia curiosità, mi ha spinto a provare questo software e forse anche a dargli ragione. E allora andiamo a vedere insieme come si comporta questo software alla prova dei fatti ma prima... Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va? Ebbene sì, se hai seguito i due video precedenti sai perché ho deciso di inserire d'ora in poi sempre un disclaimer anche se naturalmente non mostriamo mai assolutamente cose pericolose e men che meno dannose per i nostri computer. Ma andiamo a vedere come procurarci il nostro game booster e quindi apriamo il browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare come sempre gentiluomo digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito e qui in alto portiamoci nella sezione downloads. Nella pagina che si apre scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questa voce qui, wise game booster. Potremo cliccare sul pulsante azzurro file download per scaricare il file e nel caso in cui invece il file non fosse presente potremo andare qui in alto a destra sulla lente e digitare per l'appunto nella casella di ricerca wise game booster. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che ci comparirà il risultato che ci serve. Facciamo un clic per andare a scaricare questo file. Come vedi è sempre un file molto piccolo come tutti quelli che ti propongo e ci basterà a questo punto fare un clic per aprire la cartella compressa ma potremo anche chiudere la pagina del browser retrostante che non ci serve più. Come vedi all'interno della cartella compressa è presente un unico file. Ci faremo un bel doppio clic, consentiremo così che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e si aprirà la finestra di installazione di game booster. A questo punto possiamo chiudere la cartella compressa retrostante che non ci serve più ed accettare cliccando qui i termini del contratto di licenza. Andiamo avanti con l'apposito pulsante e non cambiamo il percorso di installazione del programma. Confermiamo ancora una volta con avanti e quindi clicchiamo su installa. Ecco fatto in pochi secondi game booster viene installato sulla nostra macchina. A questo punto possiamo togliere il segno di spunta da view di user guide eccetera eccetera mentre potremo lasciare il segno di spunta su avvia wise game booster in modo tale da lanciarlo automaticamente. Come puoi notare un'icona di wise game booster viene automaticamente creata anche sul nostro desktop. Clicchiamo quindi su fine, clicchiamo su sì per acconsentire un'altra volta che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo ma soprattutto adesso andiamo a vedere come funziona questo game booster. La prima cosa da cui ti invito a non lasciarti fuorviare è questa scritta giochi. Benché infatti game booster abbia sicuramente un occhio di riguardo per i gamers ti garantisco che le ottimizzazioni che va a fare a livello di sistema valgono per qualsiasi circostanza che noi utilizziamo il computer per gioco ma anche che lo utilizziamo per applicazioni di quotidianità oppure di lavoro. Come puoi vedere è suddiviso in quattro schede principali. La scheda giochi ci consente di aggiungere un gioco per ottimizzarlo e lanciarlo rapidamente ma quello che maggiormente ci interessa è questo pulsante verde ottimizza che letteralmente con un solo clic ci consente di ottimizzare rapidamente tutto quanto il nostro sistema. I tre pulsanti sottostanti invece effettuano l'ottimizzazione automatica delle altre tre schede che però andiamo prima a vedere nel dettaglio. La scheda che si chiama ottimizza sistema è probabilmente la più importante di tutte infatti si occupa di accelerare l'avvio e lo spegnimento aumentare la velocità del nostro sistema ma anche di aumentare quella della rete e soprattutto la stabilità del sistema una cosa a cui sicuramente i gamer attengono molto ma penso anche ciascuno di noi. È possibile effettuare singolarmente ognuna di queste ottimizzazioni se preferiamo gestire la cosa manualmente o nel caso in cui vogliamo ottimizzare tutta quanta questa scheda ci basterà cliccare sul pulsante verde ottimizza. La scheda successiva quella che si chiama ottimizza processi è molto preziosa nella sua apparente semplicità. Quello che fa infatti è andare ad analizzare tutti quanti i programmi non di sistema in esecuzione sul nostro computer e segnalarci quelli che sono particolarmente avidi di risorse in termini di cpu oppure di ram. Ne evidenzia alcuni in arancio che sono quelli di cui consiglia la chiusura. Il mio consiglio ulteriore tuttavia è quello di non procedere in questo caso con un'ottimizzazione automatica ma di andare a terminare singolarmente i programmi più esosi diciamo solo nel caso in cui effettivamente la tua macchina sia a corto di risorse. La quarta ed ultima scheda si occupa invece dei servizi di sistema. Evidenzia allo stesso modo in arancione quelli che a suo avviso potrebbero essere fermati che possono essere sia anche in questo caso fermati manualmente agendo sul relativo pulsante oppure possiamo procedere con un'ottimizzazione automatica mediante la pressione del pulsante verde ottimizza. La differenza con gli altri optimizer che abbiamo visto fino ad ora è che tutte queste modifiche sono assolutamente non permanenti e tutto quello che viene disattivato in questo momento sul nostro sistema nel momento in cui abbiamo bisogno per l'appunto proprio come dice il nome di dargli un boost maggiore non avranno ripercussioni sul successivo riavvio perché vedremo tornare alla normalità tutto quello che abbiamo fino ad ora disattivato. E detto questo proviamo a portarci quindi sulla finestra principale ovvero quella giochi e a cliccare sul pulsante ottimizza. Come vedi parte un'ottimizzazione completa della nostra macchina che seguirà tutte quante le opzioni suggerite dal sistema stesso e al termine ci restituirà un messaggio di avvenuta ottimizzazione. Ecco fatto il tempo è finito ma i va per pure perché mi sono bellamente mangiati ma a questo punto andiamo a trarre le nostre opportune conclusioni. Ebbene sì come sicuramente avrai già intuito Wise Game Booster è un software di ottimizzazione molto diverso rispetto a tutti quelli che ti ho presentato fino ad ora. Può sicuramente convivere con loro ma mentre ad esempio un Glary Utilities ha la possibilità di effettuare un'eccellente ottimizzazione del sistema a lungo termine questa sarà per forza di cose meno incisiva rispetto a quella che fa Wise Game Booster che è invece inteso per un utilizzo più contingente. Se infatti ad esempio avrai bisogno di lanciare un programma molto esuoso in termini di richieste di risorse hardware come può essere un programma di modellazione 3D, un CAD, Photoshop e così via, potrai affiancare a questo occasionalmente l'utilizzo dei Game Booster in modo da spremere veramente il massimo dalla tua macchina. Se dovessi condensare in un unico termine i pregi e i difetti di questo software questo sarebbe la parola modestia. Se da un lato infatti abbiamo visto che zitto zitto è in grado di fare grandi cose per il nostro computer dall'altro va riconosciuto il fatto che la sua stessa casa madre non lo ha mai spinto più di tanto. Infatti io stesso non lo avrei mai provato se non fosse stato per il nostro amico Zoltar che naturalmente ringrazio. Ma proprio a proposito di ringraziamenti veniamo ai ringraziamenti del giorno e anche in questo caso cercherò di condensare. Infatti ne farò uno solo e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video. Mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima! Ciao!